Buonasera, faccio passare qualche secondo come al solito per chi ha piacere di collegarsi in diretta. Come da titolo vi voglio parlare della nuova radioattiva, credo che molti abbiano letto nelle scorse settimane la notizia che tra fine settembre e inizio ottobre sia l'Italia che moltissimi altri paesi europei hanno rilevato nell'aria tracce del famigerato rutenio 106, quindi un elemento radioattivo pur in quantità minime, ma sono state rilevate appunto queste tracce e io immediatamente appena la notizia è divenuta pubblica ho presentato un'interrogazione urgente al Ministro dell'Ambiente e due giorni fa sono venuti a rispondermi con le notizie in loro possesso. Quali sono in breve le notizie? In breve è che non sappiamo qual è la causa di questa nuova radioattiva. Sono state chieste informazioni alle varie agenzie nucleari internazionali, soprattutto all'Agenzia Atomica Internazionale, IAEA, International Atomic Energy Agency, quindi l'Agenzia Internazionale per l'energia atomica, a varie agenzie nazionali e non lo sappiamo, non si sa. L'agenzia russa, quella più sotto pressione perché sembra che l'origine sia in Russia, l'agenzia russa, la Rosatom, ha ribadito l'assenza di incidenti negli impianti nucleari, però ha confermato anche lei la presenza di questo elemento radioattivo e quindi in buona sostanza nessun paese ha detto è colpa mia, c'è stato qualche incidente, c'è stata una qualche situazione, non lo sappiamo, sono in atto degli studi da parte dell'Istituto di Radioprotezione e Sicurezza Nucleare Francese, da parte di altri istituti e autorità di sicurezza nucleari europee e non si capisce perché l'Italia non abbia anche lei iniziato uno studio in merito, sono stati pubblicati degli studi preliminari che suggeriscono che potrebbe essere appunto una regione in Russia compresa tra i fiume Volga e i Monti Urali come l'area responsabile, però sono studi preliminari, quindi ancora non sappiamo con certezza che cosa ha causato la nuova radioattiva. Ora a me questa notizia serve innanzitutto per aggiornarvi perché questa è la situazione, perlomeno quello che il governo ha voluto rispondermi, nero su bianco, alla mia domanda di chiarimenti in merito e di provvedimenti. I provvedimenti in questo caso sono solo monitoraggio, cioè l'ISPRA sta monitorando giornalmente i livelli presenti in aria, perlomeno possiamo confermare che non sono livelli tali da suscitare nessun tipo di rischio, ribadisco questo è sia quello che dice l'Italia che i paesi confinanti. Ma a me questa notizia serve per ribadire che nel settore nucleare, a parte questo specifico ultimo caso di inquinamento, abbiamo problemi ben più grossi strutturali nei paesi confinanti, nelle centrali nucleari attive funzionanti dei paesi confinanti, perché molte di queste hanno una situazione di pericolo intrinseco che non si può ignorare. Crepe nei contenitori di acciaio che appunto contengono il nucleo centrale della centrale, difetti strutturali nell'acciaio medesimo scoperti dalla stessa agenzia nazionale, in questo caso francese, quindi ufficiali, non sono voci di corridoio, non sono fake news, non sono ipotesi, sono dichiarazioni ufficiali dell'agenzia nucleare francese, difetti nell'impianto di generazione vapore in quelle belghe, centrali costruiste con un rischio sismico che in realtà è la metà del rischio sismico reale in Slovenia, centrali estremamente vecchi in Svizzera, cioè abbiamo una serie di problemi nelle centrali confinanti e qui sì c'è una responsabilità precisa dell'Italia, perché? Perché esiste un accordo internazionale che si chiama Convenzione di ASPO, con due O finali, ma non ha importanza il nome, esiste un accordo internazionale firmato a tutti i paesi europei, per il quale se io, paese X, decido di toccare le mie centrali nucleari, anche semplicemente di allungargli il tempo di vita, devo fare partire una valutazione di impatto ambientale trasfrontaliera, cioè internazionale, e cioè dire ai paesi confinanti, cari paesi confinanti, ho queste centrali nucleari, voglio allungargli il tempo di vita, voglio ampliarle, voglio fare manutenzione straordinaria, devo, perché ho firmato questa convenzione, coinvolgervi nella procedura in maniera che voi possiate fare tutte le vostre osservazioni e naturalmente nel caso anche protestare. Ed è qui che l'Italia è latente, perché l'Italia non protesta mai, e questo ve l'ho spiegato ufficialmente un mese fa, ma lo ribadisco due mesi fa, perché io feci un'apposita interrogazione su questo, chiedendo come vi siete comportati, caro governo italiano, nella periodica riunione ultima che c'è stata a metà giugno su questa situazione, e come si sono comportati? Ah, è tutto a posto, scusate il mio dialetto veneto che non metto mai le doppie, è tutto a posto, le centrali nucleari francesi, svizzere, slovene, belghe, sono tutte costruite a regola d'arte, i paesi relativi stanno procedendo rispettando tutte le normative in materia, non c'è nessuna situazione di pericolo. Questo è l'atteggiamento del governo italiano nei confronti dei paesi esteri, che hanno questi centrali nucleari, che hanno questi problemi che non sono io a riferire, ma sono noti, sono ultranoti. Vi ricordate l'inverno scorso che le centrali nucleari francesi sono state sottoposte a manutenzione straordinaria, ed è lì che hanno rivelato, scoperto difetti strutturali. Tanto è vero che questo inverno ugualmente 25 centrali nucleari francesi saranno sottoposte a manutenzione straordinaria, quindi c'è un problema oggettivo di sicurezza, ed è qui che l'Italia dovrebbe fare la voce grossa e dire mettete immediatamente in regola queste centrali. E siccome mettere in regola costa molto di più rispetto al fatto di creare energia rinnovabile equivalente, ecco che questo diventerebbe un'opportunità di business per le aziende italiane che lavorano in settore rinnovabile e che sono bravissime, ma soprattutto un enorme miglioramento dal punto di vista ambientale e della sicurezza. Dal punto di vista ambientale, perché le centrali nucleari consumano una quantità di acqua eccezionale? Ho fatto parecchi video, ne farò ancora molti altri sull'acqua, le centrali nucleari hanno questo grosso difetto tra gli altri che consumano un'enorme quantità di acqua, hanno un difetto strutturale mai risolto perché i rifiuti ad alta radioattività nessuno sa ancora come gestirli, nessuno sa ancora come gestirli, perché nel mondo non è stato creato nemmeno un deposito definitivo per i rifiuti ad alta radioattività. Non si sa dove farlo perché sono depositi che dovrebbero durare 200.000 anni. Sono stati spesi miliardi di euro in studi, Stati Uniti, Giappone, moltissimi altri paesi hanno speso finora miliardi in studi, non in realizzazione di, ma in studi e ancora non si sa dove piazzare questi depositi e noi stessi italiani che dovremmo costruire il nostro deposito nazionale effettivamente anche noi non sappiamo ancora come comportarci, quindi è un problema oggettivo. Prima chiudiamo queste centrali e le sostituiamo con fonte rinnovabili e tanto sarà di guadagnato per tutti ed è, ripeto, qui che l'Italia deve fare la voce grossa. Invece, se voi andate a vedere, ve la linkerò, terminato questo video, la risposta alla mia precedente interrogazione appunto su questa situazione, leggerete uno spot pubblicitario del governo relativamente alle centrali nucleari estere. Io vi assicuro che quando il governo è venuto a rispondermi mi sembrava di essere davanti all'Areva francese di turno, alla compagnia costruttrice delle centrali, uno spot pubblicitario in cui si diceva che sono perfette, nessun problema, possono durare 40 anni, abbiamo adempiuto a tutti gli obblighi di legge, non è così. Non è così e spero che vogliate condividere questa notizia perché ne va naturalmente della nostra sicurezza su un problema assolutamente grave. Quindi anche in questo caso informate chi non è a conoscenza e premete tutti i politici che conoscete affinché si muovano in questo settore. Ribadisco che abbiamo da una parte la necessità ambientale e di sicurezza di chiuderle e dall'altro un'enorme opportunità in termini di business perché comunque noi siamo molto bravi nel costruire centrali a fonti rinnovabili e questo creerebbe moltissimo lavoro per tutti. E mi stavo per dimenticare a proposito di sicurezza di queste centrali, se voi fate una piccola ricerca su Google e scrivete incursioni di Greenpeace su centrale nucleare, scoprirete che a più riprese, quasi uno ogni due anni Greenpeace penetra nelle centrali nucleari francesi, ovviamente in maniera completamente pacifica e fa scoppiare dei fuochi d'artificio, ci entra con dei deltaplani, insomma.